Tra pochi giorni partirà il nuovo anno scolastico nella nostra regione. A Pescara, Assessore Cuzzi, già dello scorso anno avevate avviato controlli sulla stabilità degli edifici scolastici. Abbiamo messo in essere e posto in essere un pacchetto di interventi che dal lato riguardano le verifiche e lo studio sulla vulnerabilità sismica, dall'altro gli interventi e le prove di carico ad esempio sui solai e poi ci sono degli investimenti ritrovati importanti portati avanti dalla nostra amministrazione che riguardano progetti di manutenzione su oltre 20 edifici scolastici, progetti di riqualificazione e rigenerazione degli arredi all'interno delle scuole e poi anche dei progetti che vanno appunto a riqualificare e rigenerare dal punto di vista dell'antisismica e dell'efficientamento energetico alcune scuole. Abbiamo completato il cantiere della scuola Pascoli di Via Roma, porteremo in giunta nei prossimi giorni un progetto importante e definitivo esecutivo che riguarda il rifacimento della scuola di San Silvestro, abbiamo due asili nido per cui Mimose e la Conchiglia a Porta Nuova per cui verranno fatti gli stessi interventi per un importo di circa 600 mila euro e poi continueremo con lo studio di vulnerabilità sismica sugli edifici su cui ancora è stato effettuato, quindi c'è la massima attenzione rispetto alla sicurezza dei nostri edifici che sono oltre 54 e quindi ci vuole un'attenzione importante dalla parte dell'amministrazione investendo delle risorse reali che stanno portando a dei risultati importanti. Oltre a questo c'è tutto un programma che porteremo avanti di attività extrascolastiche appunto per rigenerare anche la parte dell'anima che c'è all'interno della scuola e quindi per portare cultura e attività appunto in modo significativo ed importante. Grazie